... Ogni giorno, in quel di Malpensa, centinaia di assistenti di volo si preparano per affrontare un antico rituale chiamato briefing. L'equipaggio intero assiste ed è in questa occasione che ci si augura di non prendere miglioramenti. Mio rapido. Però, a questa domanda rispondo. Quanto dura la... Mio rapido. 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 Mio rapido.